Terra amara anticipazioni. Demir aggredisce Zuleya. Cerchiamo di capire nel dettaglio il motivo di questo gesto del tutto inaspettato. Nelle prossime puntate, dopo il matrimonio e il rientro dalla luna di miele, Zuleya sarà disposta a ritrovare la forza per sfuggire alla prigionia a cui è sottoposta. La giovane con l'aiuto di Sebastian proverà a scappare dalla tenuta della famiglia Yaman. Uncar viene a sapere che Ilmas sarà giustiziato. L'avvocato del giovane dice che altri crimini gli sono stati imputati dai parenti dell'uomo ucciso da Ilmas. Spiega inoltre che la sentenza sarà commutata in ergastolo, Gulten ascolterà questa conversazione. Devastata impazzisce quando scopre cosa succederà al giovane. La domestica corre e in lacrime racconta tutto a Zuleya. Dopo questa scoperta, Zuleya vuole vedere Ilmas. Ma Uncar la minaccia dicendo che questa volta non impedirà a Ilmas di essere impiccato. La ragazza perderà i sensi e sarà necessario l'intervento del dottor Sabat-in. Quest'ultimo capisce che il figlio che aspetta la ragazza non è di Demir, vedendo Zuleya disperata. Decide di aiutarla a vedere il padre del suo figlio. La giovane riuscirà a fuggire dalla villa e andrà in Stabun a trovare il prigioniero. Sebastian darà il biglietto di un treno a Zuleya e chiederà ad un suo amico di accompagnarla in stazione. Nel frattempo invita Demir a cena e fa del suo meglio per tardare l'arrivo di quest'ultimo in villa, affinché Zuleya possa raggiungere Istanbul e rincontrare finalmente Ilmas. Tuttavia, quando la ragazza arriva nella stazione di polizia, ad aspettarla trova Demir, che la cattura. In quella occasione rabbia e dolore riusciranno a mescolarsi perfettamente. Soprattutto quando la ragazza dice al marito di voler vedere il fratello. In un flashback vedremo la conversazione che Demir ha fatto con Ilmas, quando è andato a trovarlo in prigione. Il giovane le ha parlato della sua relazione con Zuleya, ammettendo il suo sentimento per la fidanzata. Tra i due ci sarà uno scontro, che finirà quando Demir darà un schiaffo a Zuleya, precisando che da quell'istante in avanti dovrà dimenticarsi di Ilmas per concentrarsi sul ruolo di moglie e futura mamma. Cosa succederà da qui in poi? Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale. Grazie. Grazie.